Traffico bloccato nel centro di Napoli ieri sera a causa di una protesta improvvisata dagli operai della forestale. Circa in 500 hanno deciso di manifestare dopo il rinvio dell'incontro in regione Campania, previsto poche ore prima che venisse inscenata la manifestazione. Da Palazzo Santa Lucia, sede della regione, gli operai si sono quindi spostati in via Marina, paralizzando di fatto il traffico in tutto il centro cittadino, proprio nell'olario di maggiore affluenza di automobili. Riguardo l'incontro previsto e poi rinviato, tra forestali e vertici della regione Campania, i manifestanti parlano di atteggiamento irresponsabile della giunta regionale. Dignità a questo governo regionale che letteralmente ha impoverito interi territori, letteralmente ha impoverito le persone, ha calpestato la dignità di queste persone. Persone per bene, persone che oggi stanno manifestando ancora una volta pacificamente, però ci troviamo ancora di fronte alla regione che è sorda rispetto a questo grido proprio di sofferenza che viene da tutto il territorio regionale. È una vergogna. La vostra situazione in questo momento qual è? Ci sono enti in cui i lavoratori devono percepire addirittura 21 mensilità, altri 15, altri 18 mensilità, questo tutto grazie a questo governo regionale. Immaginate 18 mensilità, un lavoratore che lavora, perché non è che il lavoratore sta a casa, il lavoratore la mattina mette la benzina in macchina e va a lavorare, 18 mesi senza percepire uno stipendio. Non è civile, non è un paese civile e soprattutto non è una regione civile in questo momento. Anche oltre gli stipendi è anche la questione delle garanzie occupazionali per il fururo, perché comunque parliamo di un settore forestale che in Campania organizza e ci lavorano 4.500 famiglie che da ormai 5 anni, perché sono giusto 5 gli anni che viviamo questa telenovela che non finisce mai, che ogni anno c'è il problema dei fondi, di recuperare i fondi per quanto riguarda la garanzia occupazionale per i fissi e per il sagionale. Per cui adesso noi siamo qui, non ci andremo di qui fin quando Caldoro e l'assessore Nugnes convocano un tavolo e diano garanzie non solo per quanto riguarda gli stipendi arretari dei lavoratori, ma anche per quanto riguarda appunto di rifinanziare il 2015, nonché andare poi a fare la discussione sulla riforma di una legge che noi chiediamo da tempo e che per il momento ancora non abbiamo ancora nessuna risposta. Per cui saremo qui fin quando non ci saranno risposte dalla regione. Questa se lo sappia la politica che non ce ne andremo.